L'Italian Talent Show si lascia impregnare lungo le sue corde della cantante Arianna Perrone, innanzitutto ciao e benvenuta. Buonasera. Allora, questi concorsi quanto possono essere importanti per dare supporto ai giovani e far calcare l'oro alle passarelle nazionali? Penso che siano importanti perché in qualunque modo comunque ti formano, ti danno dell'esperienza in più che serve per crescere in questo ambito. Quindi più si va avanti, più si cresce, più si fa esperienza e si forma quel carattere che serve per andare avanti con la grinta che serve nella musica. Dal classico partenopeo alla melodia, al pop, le tue corde riescono a spazzare lungo e largo. Quanto c'è lavoro dietro oltre al talento? Beh, c'è un lavoro di sacrificio comunque perché la passione che uno mette però alla fine poi è quella che serve per andare avanti comunque oltre che la tecnica che usi mezzo tanto cuore. Quindi fin quando c'è il cuore in tutto quello che si fa è sempre un cavolo di battaglia in più perché comunque c'è il fatto di sapere emozionare il pubblico. Se sei cantante però non emozioni non sai da niente. Tutti questi reality che imperversano sui palazziassi nazionali, The Voice, Penso X Factor, Amici, sono produttivi secondo te? Qualificano l'anima e l'identità di un artista? Io penso di sì, sono comunque usati come trampolino di lancio, comunque ti ha molta visibilità, serve come dire, ti sprona comunque nel farti conoscere, ti mostra dalle altre vedute. Quindi sono esperienze da fare perché sono belle cose, un bel progetto, belle emozioni, quindi è bello. L'immagine di un artista, nel tuo caso, gradevole, armonico, questo limite o un vantaggio? È un po' un armadio e un po' taglio questa cosa, però diciamo che uno è se stessa, io sono così quindi vado avanti così. Dove che passarella andrà a calcare, in questo caso palcoscenici? Qual è la tua ambizione poi di fondo, inconscia? Beh, come tutti quanti, tutte le persone che hanno questa passione, tutti i cantanti, insomma, sperano e credono in qualcosa, no? Quindi spera sempre comunque di cosfondare, però magari di credere in questo sogno che poi può realizzarsi. Perché Italia è un talent show? Perché è una bella esperienza, belle persone, bello staff, quindi è una possibilità che abbiamo tutti quanti. Grazie, te so. Grazie.